Una veglia di preghiera per i poveri si celebra oggi a Taranto per iniziativa di Monsignor Filippo Santoro. Una veglia in occasione della 89esima giornata missionaria mondiale. Oggi a Taranto si rinnova l'appuntamento con la veglia missionaria. L'occasione è l'89esima giornata missionaria mondiale sul tema dalla parte dei poveri. Il Centro Missionario Diocesano, l'Ufficio Pastorale Giovanile e l'Ufficio di Pastorale Vocazionale hanno organizzato un incontro di preghiera nella parrocchia intitolata alla Santa Famiglia. L'Arcivescovo della Diocesi Ionica, Monsignor Filippo Santoro, presiede il momento comunitario pensato soprattutto per i giovani. Durante la veglia ha proiettati video preparati dai ragazzi delle singole realtà parrocchiali con cui si declinerà la povertà. Così come viene vissuta e intesa nei cinque continenti. Si prega anche in musica con gli Akusimba, il gruppo di giovani tarantini che gira l'Italia promuovendo concerti, il cui ricavato viene donato per le missioni francescane nel mondo. Durante l'incontro porta la sua testimonianza Alex Zappalà, responsabile nazionale di Missio Giovani della CEI. Un momento riservato al racconto di chi ha deciso di seguire la strada della vita consacrata. Conclusa la veglia, nel centro giovanile della parrocchia si svolgerà la festa animata dai giovani, in cui suoneranno anche gli otto volanti family band. Una vera famiglia, con padre, madre e figli tutti insieme sul palco a comporre un sodalizio artistico fuori dal comune. Grazie a tutti.